E' tutto pronto in casa della Valdinevole Montecatini per lo scontro al vertice con la Colligiana. I termali che hanno perso la leadership dopo la sconfitta di domenica scorsa al Mariotti con il Viareggio sfrutteranno questo difficilissimo test per capire come collocarsi all'interno di questo inedito campionato di Serie D, come ha tenuto a sottolineare il tecnico Maneschi. Abbiamo 16 punti, dobbiamo capire insomma il campionato nostro qual è. A Colle Valdelsa e Biancocelesti potrebbero schierare anche l'attaccante Pecchioli ex Lucchese al rientro dopo un infortunio, ma non avranno a disposizione l'infortunato Tafi e lo squalificato Santini. Va ricordato infine che in trasferta la Valdinevole Montecatini ha sempre vinto, mentre ha avuto qualche difficoltà in più fra le muramiche. La Colligiana, partita come i termali con l'obiettivo della salvezza, sta invece sorprendendo tutti sia per i risultati che per il gioco spumeggiante.